Ferdinando Perletta è rimasto solo, nonostante tutto ha iscritto il Giulianova Calcio al prossimo campionato di Serie D grazie all'aiuto del sindaco Mastromauro. Ma da oggi Perletta, come diceva in conferenza stampa, dovrà iniziare un nuovo giorno per il Giulianova? Sì, rimasto solo tra virgolette. Io penso che adesso l'operazione necessaria era quella dell'iscrizione, che ripeto ancora qui per chiarire alcune cose è stata fatta grazie al mio impegno, all'impegno del sindaco e anche indirettamente anche della vecchia società perché, ripeto, uno degli sponsor che ha aiutato economicamente questa iscrizione collaborava con noi anche l'anno scorso. Quindi è stato l'impegno di tutti, gente che vuole bene al Giulianova. Adesso sì, sicuramente avrò delle persone, faranno vedere le persone che vogliono bene al Giulianova Calcio per portare avanti questa squadra che è un bene per il Comune di Giulianova, per tutti i giuliesi. Partirà una sottoscrizione popolare anche tra imprenditori e poi partirà anche il ritiro. Lei diceva che in economia non possiamo spendere, faremo il ritiro al Rubens Fadini di Giulianova. Sì, questo lo posso dire sicuramente perché dobbiamo volare basso, si sa il momento che attraversiamo, quindi non dobbiamo illudere la gente. L'importante è che il Giulianova partecipi al campionato di Serie D. Se durante il proseguo del campionato, durante l'anno, ci saranno delle forze economiche nuove, importanti, noi saremo ben lieti di fare una squadra competitiva per vincere. Questo non lo possiamo promettere attualmente, noi abbiamo promesso di iscrivere la squadra e l'abbiamo fatto. Quindi il ritiro sì, sono convinto che lo faremo a Giulianova perché è inutile spendere dei soldi inutilmente, quindi è così. Il Giulianova ai Giuliesi, ha detto qualche minuto fa, ho avuto richieste da due cordate anche di fuori Abruzzo per rilevare il Giulianova o comunque per trattare, ma noi vogliamo che il Giulianova resti in mano ai Giuliesi. Sì, ma questo io finché sarò io proprietario del titolo, sicuramente titolare del titolo, questa è una cosa che prometto e farò a tutta Giulianova. Ho avuto dei contatti ma ho rifiutato perché nonostante le difficoltà è giusto che Giulianova ripanga ai Giuliesi. Grazie.